Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Verso le 6.30 di questa mattina, incidente tra 5 mezzi pesanti sulla 4 vicino a Porto Gruaro con direzione Venezia. Uno dei mezzi per cause ancora in fase di accertamento è finito di traverso sulla careggiata bloccando il flusso di auto che sopraggiungeva. Il tratto è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso. Per diverse ore fino allo sgombero della careggiata è stata istituita l'uscita obbligatoria a Latisana. Un 51enne residente a Vigasio, in provincia di Verona, è morto questa mattina uscendo di strada con il suo scooter. L'incidente è avvenuto sulla provinciale tra Isola della Scala e Vigasio. Roberto Garofolo, questo è il nome della vittima, per causa ancora da accertare, ha perso il controllo della moto e nella caduta è rimasto ucciso all'istante. E altri due gravi incidenti sono avvenuti nella fine settimana. Uno in provincia di Vicenza, l'altro in provincia di Verona. Tre le persone ferite che sono state salvate dai Vigili del Fuoco. Poco prima delle tre di domenica i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale tra due autovetture in viale Fusinato a Vicenza. Una Ford Ka guidata da un Vicentino 42enne si è scontrata con una Opel Corsa condotta da una 37enne, anche lei di Vicenza. I Vigili del Fuoco accorsi sul posto hanno messo in sicurezza i veicoli e il luogo. I feriti sono stati presi in cura dal personale del 118 arrivati sul posto con due ambulanze. I carabinieri e la polizia hanno provveduto ai rilievi dell'incidente per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Alcune ore dopo, verso le 10.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in un altro incidente in provincia di Verona, Aronca. In via Viola un'auto è precipitata da un giardino sopraelevato. Una donna a 81enne a bordo di una Fiat Panda dopo aver sfondato una ringhiera è precipitata per circa 5 metri nella stradina sottostante, rimanendo bloccata all'interno della vettura. Un vicino è riuscito con un trattore a posizionarsi a ridosso dell'auto rovesciata, evitando che questa scivolasse ulteriormente a causa della strada in pendenza. I Vigili del Fuoco di Lonigo e Verona hanno messo in sicurezza il luogo e collaborato con il personale del 118 nel soccorrere la donna che è stata elitrasportata all'ospedale Borgo Trento. È stato arrestato il terzo bandito accusato di aver rapinato una tabaccheria nel quartiere periferico di San Michele Extra, in provincia di Verona. Si tratta di Francesco Vitrani, 40 anni, originario di Pavia, residente in provincia di Aosta. Secondo le indagini era questo, l'uomo che durante l'assalto teneva la pistola in mano. Il GIP Laura Donati ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Il presunto rapinatore è stato individuato a Issogne, in bassa Valle d'Aosta, dove vive con la famiglia. Nel corso della fine settimana appena trascorso in Veneto e in parte sono ancora in fase di trasferimento 535 nuovi migranti. Lo ha reso noto la Prefettura di Venezia che coordina l'attività di tutte le sedi decentrate in regione. La Prefettura in una nota ha segnalato anche che tra gli arrivi di questa notte una donna di cittadinanza eritrea in condizioni precarie ma principalmente dovute probabilmente allo stress del viaggio. Ha accusato un malore ed è stata ricoverata all'ospedale. Un anno fa in Veneto la tragedia di Refrontolo, un disastro devastante che provocò morti e feriti. Il Veneto non dimentica, ieri si è svolta una commemorazione. Refrontolo ricorda il disastro di un anno fa quando la sera del 2 agosto il torrente Lierza uscì in seguito a un nubifragio dal suo letto naturale provocando la caduta di una massa enorme d'acqua che travolse tutta l'area attorno al molinetto della croda. Nell'area era stato allestito un tendone per una festa. L'acqua travolse tutto. Dentro c'erano centinaia di persone. L'acqua proseguì il percorso trascinando con sé automobili e persone. Un vero disastro che provocò la morte di quattro persone e decine di feriti. Per non dimenticare la tragedia, circa 300 persone hanno partecipato ad una messa celebrata sul luogo del disastro. Erano presenti i cittadini, i parenti delle vittime, i soccorritori, amministratori veneti. Resta una tragedia dei nostri cuori, nei nostri pensieri, ha detto al termine Zaia, presente alla commemorazione. Perché quattro morti qui restano un ricordo indelebile. Dall'altro l'esito degli interventi della regione è quello di aver ripristinato l'area, com'era e dov'era. Perché, l'avevo detto un anno fa, tutto quello che si vede deriva da finanziamenti della regione. Il bilancio totale dei danni delle famiglie, delle imprese e pubbliche, ha ricordato Zaia, sono 8 milioni 258 mila euro. Noi abbiamo finanziato con 4 milioni di euro, quindi abbiamo ripristinato tutti quelli che sono i danni pubblici. Ci aspettavamo e ci aspettiamo ancora un riconoscimento da parte del governo, che ancora non c'è. Un cittadino venezuelano di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri a Mestre per una rapina ai danni di un supermercato. L'uomo stava rubando generi alimentari all'interno di un negozio quando è stato scoperto dai dipendenti. È nata una lite sfociata in un'aggressione vera e propria, con tanto di collutazione con il direttore del supermercato. L'uomo poi si è dato alla fuga per l'aggredito qualche contusione, fortunatamente leggera. Grazie ad una rapida indagine, i carabinieri intervenuti sul posto sono riusciti a individuare il venezuelano. Naturalmente, a seguito poi della lite con aggressione, quello che inizialmente era un furto si è trasformato in una rapina. E per l'uomo sono aperte le porte del carcere. Abbiamo parlato all'inizio del telegiornale della tragedia di refronto l'avvenuta un anno fa. Dopo quella tragedia, il governo non ha dato i fondi per sostenere i privati. Solo 2 milioni invece sono stati destinati dal governo per la riviera del Brenta. E i cittadini a questo punto si pongono davvero tante domande. E non viene neppure esclusa l'ipotesi di un'accise sulla benzina, il servizio. Il governo italiano sembra rimanere sordo alle richieste dei cittadini che hanno subito la catastrofe del maltempo sulla riviera del Brenta. Dopo un primo stanziamento pari a 2 milioni di euro a fronte di numeri ben lontani, i cittadini si interrogano sulla presenza o meno di un governo. Governo sempre disposto a chiedere, a tassare, a fornire assistenza ai profughi, ma a concedere poco o niente a cittadini italiani che improvvisamente si sono trovati a vivere una catastrofe nella quale molti hanno perso la casa, la macchina, l'attività commerciale. Anche i cittadini di refronto lo stanno ancora aspettando risarcimento d'anni, denaro che probabilmente non vedranno mai. Cifre importanti sono state versate dalla Regione Veneto e molto è arrivato dalla solidarietà, ma dal governo a refronto non è stato versato nulla ai cittadini, ben poco quello promesso in riviera. Il presidente Zaia non esclude la lontana possibilità di aggiungere un'accisa sul gasolio, come hanno già fatto altre regioni, che prevede una tassa di scopo pari a un massimo di 7 centesimi e mezzo per litro. Naturalmente sarebbe una sconfitta, afferma il presidente, perché un territorio che paga 21 miliardi di tasse all'anno a Roma e le lascia lì, si merita di avere indenizi da Roma. Certo, ha concluso, noi dobbiamo dare vita a un fondo per le catastrofi, altrimenti non riusciamo più a dare risposte ai cittadini, dobbiamo essere presenti. Spero che il governo ristori i danni, non ultimi quelli della riviera del Brenta e dei privati di Rieffrontolo, che sono lì in attesa. Linea dura del comune di Verona contro gli allacciamenti elettrici abusivi nei campi nomadi. Il sindaco Flavio Tosi ha guidato un blitz degli agenti della Municipale e della Polizia al campo nomadi di Forte Azzano, dove a fronte di una sola utenza contrattualizzata vivono 70 persone. Gli agenti e i tecnici della Multi Utility a GSM hanno provveduto al distacco degli allacciamenti abusivi, almeno 8 collegamenti che consentivano di usufruire dell'energia senza pagare le bollette. Agosto da Bollino Rosso per il traffico, la situazione è stata intensa anche ieri. Domenica da Bollino Rosso su strade e autostrade italiane, con un traffico complessivamente più scorrevole nel corso della giornata rispetto a quello di sabato. Non sono mancate però code e rallentamenti in alcuni tratti. Il traffico è stato molto intenso, come era previsto, sulla rete autostradale di Autovie Venete, in particolare in A4 Venezia-Trieste, in direzione capoluogo Giuliano e dunque anche le mete turistiche balneari d'oltre confine, come Slovenia e Croazia. Giornata da Bollino Rosso anche sull'autostrada 22 del Brennero, con rallentamenti e code già dalla prima mattina in Trentino. Dormivano in undici all'interno di un appartamento di Jesolo, appartamento che può ospitare non più di cinque persone. La polizia locale aveva diffidato il proprietario ad adeguarsi già due mesi fa e ha messo quindi sotto sequestro l'immobile. A non mettersi in regola, oltre al proprietario, anche il locatario. Dopo un primo controllo, i vigili avevano verificato come all'interno dell'appartamento di poco più di 60 metri quadrati vi dimoravano undici persone. Si tratta di cittadini bengalesi in regola con i documenti di soggiorno in Italia. Il poco spazio si è presentato agli agenti in grande disordine, con letti ammassati uno sopra l'altro, stanze carenti delle più elementari norme igienico-sanitari. Da qui sono scattati i verbali di 450 euro per proprietario e locatario con l'obbligo di effettuare lo sgombero entro tre giorni dalle persone eccedenti, fatto che non è avvenuto e che quindi ha portato al sequestro dell'immobile. Dalla Padova Pride Village, solidarietà alla riviera del Brenta, donati 5.125 euro. Il Padova Pride Village ha donato oltre 5.000 euro all'associazione Aiutiamo Famiglie del Tornado, 8 luglio 2015, in favore delle vittime del tornado che si è abbattuto l'8 luglio sulla riviera del Brenta. Per una serata hanno tutti lavorato gratuitamente e contribuito alla raccolta del fondo destinato ad aiutare la popolazione. Il denaro è stato consegnato a Francesco Gislonna, presidente dell'associazione. La vita degli abitanti, racconta il presidente, è cambiata, non siamo più gli stessi. Toccanti le sue parole. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 se spiege e migraziamo a varsi ovviamente come ti sentiamo ci sono quello che guardiamo il giocatore non è affeciato ci sono delle cose nuove sono stati dove si trovano con una zona ci vediamo un'oraaco nella zona Alla solidarietà all'interno e tra le comunità ha fatto riferimento dal palco anche Alessandro Zanna, portavoce del Padova Pride Village. Alla solidarietà all'interno e tra le comunità ha fatto riferimento dal palco anche Alessandro Zanna, portavoce del Padova Pride Village. E' tutto per questa edizione, grazie per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.